Sono stati oltre 60 i baby calciatori che hanno vestito i panni degli operatori ecologici nella tappa Tifernate di Puliamo il mondo, l'appuntamento nazionale promosso dalla Fondazione Lega Ambiente e Innovazione, cui ha aderito il Comune di Città di Castello, insieme all'Associazione Sportiva Dilettantistica Junior Tiferno, alla Società Rionale Graticole e a Sogepu, l'assessore Massimo Massetti. Abbiamo pensato di poter raggiungere lo stesso obiettivo iniziando dalle scuole calcio in questo momento, ma le scuole di sport le faremo partecipare tutti anno dopo anno, come abbiamo fatto con le scuole degli anni precedenti. Oggi i ragazzini della Junior Tiferno con i propri tecnici, i propri genitori hanno aderito a questa iniziativa, l'amministrazione è sempre al fianco di chi comunque promuove e aiuta queste importanti iniziative. Speriamo che questi ragazzi riescano poi a riportare nelle proprie scuole, perché ognuno di loro vengono sicuramente da delle realtà diversificate, e riportare questa importante giornata e cercare di sensibilizzare gli amici di classe e i stessi insegnanti. Una caccia alla carta, alla plastica, al vetro, alle lattine e a ogni tipo di materiale che ha raggiunto anche la fermata della ferrovia della Fornace e si è estesa in un crescendo di entusiasmo, come ci spiega il vicepresidente della Junior Tiferno, Ermanno Patriarchi. Per noi è stata un'iniziativa molto importante ed è stata accolta subito con entusiasmo. L'assessore Massimo Massetti ci ha proposto questa mattina con i nostri ragazzi di partecipare e noi ne siamo stati felici perché sinceramente il nostro è una società che nel sociale qui a Città di Castello è molto presente. I bambini sicuramente con queste iniziative vengono responsabilizzati e per questo abbiamo ritenuto che fosse una bellissima iniziativa e siamo stati entusiasti di partecipare. Al termine del percorso i ragazzi hanno raggiunto con Capitan Eico la stazione ecologica e i cassonetti installati da Sogepun nell'area dello stadio Baldinelli per una lezione sulla corretta differenziazione dei rifiuti che li ha visti in prima persona suddividere i materiali raccolti e gettarli nei contenitori appropriati. Il direttore generale della Junior Tiferno, Luca Marini. Sostanzialmente è un'esperienza che fa parte di una serie di iniziative che faremo tutto l'anno. Questa è la prima iniziativa per cercare di socializzare e far capire ai bambini che oltre al calcio ci sono anche altre situazioni che sono importanti quanto lo sport perché servono per vivere e per crescere in una società normale. Sono presenti due categorie con circa 60 bambini e con i rispettivi tecnici che sono sei tecnici che collaborano con i bambini alla sensibilizzazione delle... Grazie.